Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io raga sono Felix Oggi ragazzi siamo su un nuovo tutorial importantissimo Sia per me, sia per voi se giocate a Fortnite raga Come avete detto dal titolo Siamo su un tutorial come fare più FPS ragazzi Ma molto più su mobile raga Questa qui, questo tutorial qua raga Credo che sia funzionante anche per Apple Ragazzi se voi avete tipo un telefono Che fa 30 FPS su Fortnite massimo Oppure un Samsung Galaxy S8 che ne fa 60 Con questo metodo ragazzi potrete raggiungere i 120 FPS Ragazzi 120 FPS Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale per non perdere altri tutorial Scrivete al hashtag fatto se anche voi ha funzionato come me Ok ragazzi possiamo iniziare Ragazzi siamo sulla mia schermata del telefono come vedete Per fare questa cosa dovete avere tre applicazioni Che sono prima parallel space Seconda parallel space 64 bit support La prima è questa La seconda è questa E la terza ragazzi è root browser E la quarta fortnet E ragazzi Prima di fare questa cosa dovete avere fortnet L'app qua Ma non dovete averlo installato Ok Per installarlo ragazzi lo dovete installare tramite questa app che vi dico io Parallel space qua Entrate qua dentro Raga importante Dovete fare ogni passaggio Quindi seguite bene fino alla fine del video Raga per vedere come si fa Poi raga dovete andare ad aprire fortnet Una volta che siete arrivati fino a qui ragazzi Ovviamente come vi ho detto dovete entrare su parallel space e aprire fortnet da lì Fate installa Installa E installa Ragazzi aspettate che vi si installi Riprendi Aspettate che vi si installa ragazzi Una volta finito Ragazzi Non fate gioca Ma uscite Per installarlo ti puoi ci mettere a mezz'ora Un quarto d'ora insomma Uscite Da qua Ed rientrate su parallel space ragazzi Poi invece di andare su forno e l'epid games E andate su root browser qua Entrate sempre da parallel space mi raccomando Ok ragazzi Una volta entrati fino a qua Andate su tre lineetti che trovate qua su in cima a sinistra Root directory Il mio inglese è pazzesco Poi andate su data Data Andate sotto 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 ragazzi Andate sotto Finché non trovate com.lb e parallel.intel.arm64 Questo che vi sto evidenziando io ora Questo qua Lo potete cercare pure tranquillamente sulle lente qua sopra Ok Andiamo a pigiarlo Andiamo su parallel.intel.arm64 Insomma Zero Com.epic games fortnite Andiamo sotto andiamo su files Ue4 game Ue4 game Fortnite game Fortnite game Save it Config Android Game User Setting Punto E ci sarà scritto mobile fps mode Mod Voi qua Ovviamente Voi qua dovete andare a cliccare E Metterci Invece di 30 fps Metterci Metterci 120 Oppure 60 Io tengo 60 fps Ok Poi ragazzi Scendendo sotto Troveremo anche questi numeri qua Ragazzi Ok Qua sul 3 Sull'ultimo Metteteci 0 Anche qua Zero 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 Pure qua Zero Pure qua Zero No no ragazzi Ho sbagliato io Va bene così Ok ragazzi Poi andate qua Fate Save E Ok ragazzi Potete trovare Potete tornare pure indietro E godervi Il vostro Fortinet Ok ragazzi Il video finisce qua Se vi è stato utile Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale E lasciamo un like Ci vediamo Al mio prossimo tutorial È finito